Il pallone Ghion e Van de Putt Parte il belga palla che viaggia Bombagi Bombagi e la sua giornata fa doppietta 3 a 0 per il Catanzaro Stavo dicendo da quella zona era arrivato il 3 a 0 nell'ultimo match contro il Giuliano segnato da Scognamillo neanche il tempo di dirlo palla di Van de Putt undicesimo assist per il belga il colpo di testa di Bombagi la legge del 3 al Ceravolo a metà del secondo tempo dunque Catanzaro che se vogliamo in un certo senso frizza il risultato grazie a tutti Grazie.